Anzitutto un grande grazie per l'invito. Mi fa molto piacere di essere qui con voi. Considero questo incontro un'occasione preziosa di apprendimento, anche per me. Già le cose che l'Avvocato ha detto sono cose molto interessanti, alcune delle quali si collegano anche l'ultima parte del discorso che andrò facendo. In breve, io vorrei essere capace di farvi riflettere sul fare impresa, cominciando anzitutto col capire che cosa vuol dire fare impresa sul terreno del che cosa, del come e del perché. Questo è il primo discorso. Secondo discorso, un approfondimento sul come. Terzo discorso, un approfondimento sul perché. Quarto discorso, mi avventurerò su un terreno che non è proprio quello mio, sul terreno giuridico. Cioè ho cercato di capire che cosa dice il codice civile in tema di scopo dell'impresa. Questa è la domanda che mi sono posto e vi dirò quello che mi è parso di capire. Allora, cominciamo dal primo discorso. Riflettere sul che cosa, il come e il perché del fare imprese. Due sono le determinanti prime del successo dell'impresa. Un posizionamento di mercato forte e relazioni di qualità con tutti i detentori di interessi o stakeholder, come si suol dire. In primis i clienti, i collaboratori, i soci. Di conseguenza la riflessione imprenditoriale deve svolgersi sul duplice binario del che cosa fare per stare sul mercato con prodotti e servizi da vendere a prezzi nel contempo competitivi e remunerativi e del come fare per generare coesione, spinta motivazionale, energia. Riflettere e decidere sul che cosa significa occuparsi di prodotti, clienti, mercati, tecnologie, attuali e futuri e delle sottostanti strategie di business. Riflettere e decidere sul come significa occuparsi di persone, valori, cultura aziendale, stile di management, gestendo dei processi volti a fare dell'impresa una realtà in cui e per cui è bello lavorare. Il che cosa e il come sono ugualmente importanti. Spesso però è il come a fare la differenza, consentendo di operare con più elevati livelli di efficienza operativa e di efficacia strategica nelle nicchie o segmenti di mercato o aree di business prescelte. Il come è un fatto di qualità delle relazioni, a cominciare dalle relazioni con i clienti, con i collaboratori, con gli azionisti. Con i clienti, perché il migliore soddisfacimento dei loro bisogni è la ragione d'essere dell'impresa, che si realizza per l'appunto a partire da una conoscenza approfondita dei bisogni medesimi. Con i collaboratori, perché senza il loro coinvolgimento e dedizione non c'è possibilità di stare sul mercato, in specie quando esso è altamente competitivo. Con gli azionisti, perché dalle decisioni di loro competenza in materia di nomine degli organi amministrativi di controllo, di dotazione di mezzi propri, di finanza straordinaria, dipendono in ultima analisi i destini delle imprese. Spesso le imprese competono facendo più o meno le stesse cose e imparando per imitazione le une dalle altre. Riuscite a sentire bene? Parlo troppo forte? Sono troppo vicino al microfono? Va bene così? Il come si fa impresa, però, è generalmente assai più difficile da imitare del che cosa. E ciò per la semplice ragione che, mentre le innovazioni incorporate in pratiche manageriali e in tecnologie di prodotto e di processo possono trasferirsi con relativia facilità, avvalendosi anche di fornitori di impianti, di consulenti, di personale proveniente da imprese del medesimo settore, il come delle imprese eccellenti è segnato dalla personalità di un imprenditore o di un vertice manageriale che crede nella centralità della persona e ha imparato a perseguire il successo imprenditoriale coniugando efficienza e umanità. È segnato in ultima analisi da uno spirito di impresa che non può essere copiato, ma che lo si ha o non lo si ha. E soltanto chi lo ha libera la creatività imprenditoriale nella direzione di superare gli antagonismi fra economia ed etica, efficienza ed equità, obiettivi economici e obiettivi umanistici, acquisendo un vantaggio di consenso sociale in appoggio al vantaggio competitivo. Ciò che colpisce, vedendo al lavoro questo tipo di imprenditori e manager, è come essi nel presidiare l'equilibrio economico-finanziario attuale e prospettico, prestano uguale attenzione alle problematiche di business e alle problematiche comportamentali, all'innovazione tecnologica e all'innovazione culturale, con la preoccupazione sia di imprimere all'impresa il necessario dinamismo imprenditoriale in fatto di prodotti, tecnologie e mercati, sia di perpetuare un modo di fare impresa che costituisce una fonte stabile e difficilmente imitabile di vantaggio competitivo. In questo modo, essi dotano l'impresa di quel mix di dinamismo e di stabilità che è il segreto della continuità di successo. Il che cosa e il come del fare impresa a loro volta dipendono dal perché, ovvero dallo scopo che si dà all'impresa e dalla conseguente funzione obiettivo che in concreto orienta e indirizza decisioni e azioni. Diventa quindi fondamentale interrogarsi sul perché del fare impresa, esplicitarlo, capire come esso incide sul che cosa e sul come e se del caso metterlo in discussione. Il perché spesso viene dato per scontato, per cui non ci si riflette e non forma oggetto di scelta consapevole. E invece è il perché che mette imprenditori e manager di fronte a una scelta di campo, la scelta fra un perché capace di dare senso al lavoro di tutti o di alcuni soltanto, fra un perché che prende tutti a bordo o soltanto alcuni, fra un perché coesivo e un perché divisivo. È una scelta di campo che a ben vedere richiede di prendere posizione sulla concezione dell'impresa lasciandosi interpellare dalla seguente domanda. L'impresa è o no un bene comune, di tutti e per tutti, da gestire con responsabilità e da rispettarsi da parte di tutti i soggetti coinvolti? È una scelta che non riguarda soltanto l'imprenditore, ma anche i collaboratori e il mondo sindacale, politico, professionale, coinvolto nelle relazioni industriali. Sta però all'imprenditore di fare il primo passo, rifiutando sia l'antagonismo lavoratore-impresa e le consuette messe in scena prodromiche la stipula dei contratti di lavoro, sia i comportamenti guidati da logica paternalistica e dando invece testimonianza della sua appassionata dedizione all'impresa come bene comune. Mi piace a riguardo segnalare che in un'impresa elettromeccanica non distante da qui è stato recentemente sottoscritto, sottolineo anche dalla FIOM, un contratto integrativo aziendale nel cui preambolo, spiegato e discusso parola per parola prima della firma, si legge, leggo testualmente, le parti che hanno sottoscritto questo accordo condividono una visione dell'impresa quale bene comune da preservare e rafforzare. L'impresa non è una semplice organizzazione volta a massimizzare i profitti, ma bensì un luogo dove uomini e donne sono chiamati a realizzare una missione produttiva in maniera responsabile verso chi li ha preceduti, verso se stessi e verso chi verrà in futuro, cui dobbiamo consegnare un'organizzazione solida e con un equilibrio economico-finanziario sostenibile. Tale obiettivo si realizza perseguendo l'efficienza aziendale e il profitto, affinché essi possano assicurare all'azienda i mezzi per lo sviluppo e per l'innovazione. Dietro a un simile risultato c'è evidentemente un cammino, che ha portato a costruire relazioni di qualità con i collaboratori e i loro rappresentanti sindacali, basate su stima e fiducia reciproche. Ingredienti fondamentali che sono state prima ricordate dall'avvocato. Ma esso non sarebbe neppure iniziato questo cammino se l'imprenditore non avesse fatto la convinta scelta di campo, di considerarsi proprietario non già dell'impresa, ma del suo capitale, con le responsabilità, i doveri, i diritti adesso connessi, e di considerare invece l'impresa quale bene comune. Vengo ora al secondo filone di riflessione, un approfondimento sul come. L'approfondimento sul come che intendo fare è, diciamo, rivolta a riflettere soprattutto sullo spirito imprenditoriale che porta buoni frutti e che in quanto tale è da desiderare e coltivare. Perché è vero che non lo si può copiare, lo si ha e non lo si ha, dicevo prima. Però se lo si desidera, prima o poi lo si ha. La partenza è dalla sfera dei desideri. In estrema sintesi, questo spirito imprenditoriale da desiderare e coltivare è lo spirito del prendersi cura dall'impresa, dalla famiglia, di se stessi. Prendersi cura dell'impresa è un fatto di cuore, di un cuore appassionato che muove l'intelligenza a capire che cosa è bene per l'impresa e la volontà ad agire di conseguenza, in un ciclo continuo di pensiero e azione, volto a inserire e o a mantenere l'impresa su un sentiero di sviluppo che è innanzitutto qualitativo e poi dimensionale. Lo spirito di chi crea, costruisce e custodisce imprese vitali è spirito ricco di amore e di intelligenza, mentre contrari sono gli spiriti dove c'è un deficit di amore e o di intelligenza. Ma vediamo che cosa sono amore e intelligenza nel loro concreto esplicarsi. L'amore è passione per l'impresa, passione più forte dell'attaccamento al proprio io e ai propri interessi. È desiderio inesorribile che l'impresa fiorisca, si sviluppi armonicamente, diventi sempre più bella. È un desiderare volere il bene dell'impresa senza secondi fini e compromissioni, in armonia con quello di tutti i suoi interlocutori e del suo territorio. Quando è mossa e guidata da questo amore, l'intelligenza è protesa a conoscere con verità la situazione dell'impresa, il suo effettivo stato di salute, il suo reale cambiamento economico-finanziario, i punti di forza e di debolezza del posizionamento strategico, le opportunità e le minacce provenienti dal contesto esterno, la qualità dei rapporti che l'impresa intrattiene con i suoi diversi interlocutori, il suo potenziale di crescita della produttività, le sue potenzialità strategiche nei medesi ambiti di attività e in nuovi ambiti e così via, e cioè in vista di capire qual è il bene dell'impresa e di perseguirlo nel migliore dei modi. Quando c'è un deficit di amore per l'impresa vuol dire che c'è qualcos'altro che sta maggiormente a cuore e che magari ci si illude sia compatibile con il buon funzionamento dell'impresa, ma che in realtà invece porta a servirsi a dell'impresa per fini propri o del proprio gruppo di appartenenza, anziché a rispettarla e a servirla. Ecco che allora l'intelligenza è attenta a conoscere e a capire, ma con un'attenzione selettiva a obiettivi personali di protagonismo, potere e accumulo di rettezza. Quando per conto c'è un deficit di intelligenza, l'amore per l'azienda, non supportato da professionalità manageriale di spessore, non sfocia in buone decisioni strategiche e organizzative e in comportamenti operativi efficaci ed efficienze, cosicché fa difetto una lucida direzione di marcia comunicata con chiarezza e condivisa da tutti. Le posizioni chiave non sono coperte o non sempre lo sono da persone giuste al posto giusto. L'equilibrio economico-finanziario non è presidiato adeguatamente. Non si percepiscono tempestivamente le minacce e opportunità scatturenti dal progresso tecnologico e dalle dinamiche così competitive in atto e così via. Solo uno spirito d'impresa ricco di amore e di intelligenza produce quella sapienza che consente a chi ha responsabilità di governo e di direzione dell'impresa di discernere che cosa è bene e giusto per l'impresa e di farlo. Questo e soltanto questo è lo spirito d'impresa che fa fiorire l'impresa, realizzare le potenzialità di chi vi lavora, fertilizzare il territorio e perseguire il bene comune del paese e della società tutta. Spero di non stancarvi troppo con questa mia chiacchierata, oltretutto senza luci, senza niente, tiriamo un po' un respiro di sollievo per riprendere un po' l'attenzione e passare alla terza linea di riflessione che è quella della cura della famiglia. Incide molto sul come del fare impresa, la cura della famiglia. Delle imprese familiari, che sono quelle di gran lunga più numerose, qui come altrove nei nostri territori, il prendersi cura dell'impresa non può prescindere dal prendersi cura della famiglia. E questo non soltanto in relazione ai problemi di successione e ricambio generazionale nei ruoli di proprietario, imprenditori, manager e connessi problemi di governance. Ma anche perché lo stile e i modelli di comportamento della famiglia tendono in qualche misura a trasferirsi nell'impresa, nel bene e nel male. Infatti sia la famiglia che l'impresa sono comunità di persone con un bene comune da perseguire. C'è un bene comune della famiglia, c'è un bene comune dell'impresa. Un bene comune per la cui realizzazione sono fondamentali dei processi educativi che portano le persone, i figli, la famiglia e i collaboratori nell'impresa a rispettare certi valori, a impegnarsi nello studio e nel lavoro, a imparare a vivere la vita comunitaria e sociale. Nel caso delle imprese familiari i coniugi sono l'artefice della famiglia e uno di loro, o la coppia matrimoniale, è l'artefice dell'impresa. È abbastanza naturale perciò che avvenga un qualche trasferimento di stili e modelli di comportamento dalla famiglia all'impresa. A differenza di alcuni miei allievi io non ho studiato a fondo il tema delle imprese familiari e, in particolare, quello del trasferimento di stili e comportamenti della famiglia all'impresa, tema che oltretutto presenta notevole complessità nel caso di famiglie con rapporti problematici. Posso però testimoniare quello che ho potuto osservare in alcuni casi di famiglie e di imprese familiari felici. Ed è molto più facile studiare la relazione che c'è tra imprese felici e famiglie felici. Perché? Perché la fisiologia della famiglia è una, fondamentalmente. La fisiologia dell'impresa è una, fondamentalmente. Mentre le patologie imprenditoriali sono tantissime. Le patologie familiari, come diceva, mi pare, non so, nella introduzione del libro ben noto di Tortore, mi sembra, dove si dice in Anna Karenina, esordisce questo libro dicendo le famiglie felici si assomigliano tutte. Mentre le famiglie infelici sono infelici ognuna a modo suo. Capite? Questo per dire come è difficile dal punto di vista così accademico, rigoroso, studiare le relazioni tra famiglia e impresa nel caso in cui ci siano manifestazioni di infelicità sull'uno o sull'altro versante. Bene, dicevo che io posso testimoniare quello che ho potuto osservare in alcuni casi di famiglie e di imprese familiari felici. Se la famiglia, quello che ho capito è questo, che ho osservato, che se la famiglia è una comunità di persone unite, che si vogliono bene, che si comportano con lealtà e trasparenza, che si rispettano e si aiutano a vicenda, che si impegnano e operano in armonia per il bene della famiglia, gli stessi tratti mutatis mutandis trovano riscontro in un modello di impresa come comunità di lavoro, serena e operosa, che alimenta un forte senso di appartenenza e che si sviluppa, creando valore per sé medesima e per tutte. E questo si verifica perché l'imprenditore o la coppia imprenditoriale, consciamente o inconsciamente, danno all'impresa un'impronta che è quella stessa della loro famiglia, ponendo ogni cura che le persone, similmente ai loro figli, crescano bene, si comportino bene come persone, pensino al bene comune, si impegnino al massimo. Il modello di impresa che ne scaturisce, si noti, non ha nessuna connotazione di paternalismo, perché non c'è un dare che implicitamente chiede in cambio un consenso intorno alla persona dell'imprenditore, ma c'è un essere e un sentirsi tutti parte della stessa avventura imprenditoriale. Mi è capitato di recente di ascoltare un imprenditore che è andato incontro alle esigenze dei collaboratori con tantissimi iniziativi di welfare, una più bella dell'altra, e che però lamentava. Come? Più dai e più loro pretendono. Al che mi è venuto spontaneo osservare che al fondo di simili comportamenti c'è il retaggio storico di un antagonismo lavoratore-impresa che le pratiche di welfare aziendale non aiutano a superare, finché l'impresa non è vissuta come bene comune di cui sentirsi corresponsabile. Questo è il punto fondamentale. Dopodiché anche tutte le pratiche di welfare assumono un significato e un sapore diverso. Cioè le stesse cose hanno un significato diverso, sono uguali, ma il come fa sì che siano diversi, fa la differenza. E il come si collega proprio a questo spirito imprenditoriale. Terzo punto, sempre di approfondimento sul come, è la cura di se stessi. Il prendessi cura dell'impresa, il prendessi cura della famiglia, nel senso che ho cercato di chiarire, è velletario. Se non c'è un prendessi cura di se stessi per una crescita umana e professionale che deve durare per tutta la vita, intanto che si hanno i capelli bianchi e oltre. Quanto alla crescita umana, esse è un fatto di crescita in consapevolezza e volontà di migliorarsi. C'è un imprenditore che proprio mi ha regalato l'altro giorno un libro, il Conte Branca, Niccolò Branca, un libro che si intitola L'economia della consapevolezza. Precisamente si tratta di crescere nella consapevolezza dei desideri, sentimenti, pensieri, atteggiamenti profondi da cui siamo abitati e che determinano i nostri comportamenti. Onde capire quali assecondare e quali contrastare, per avere relazioni autenticamente umane e costruttive con tutti, nell'impresa e in ogni altro contesto. Pure la crescita professionale è un fatto di consapevolezza e di volontà. Consapevolezza dei propri fabbisogni di conoscenze, competenze, stimoli per capire dove stanno andando il mondo ai mercati e innovare di conseguenza. Volontà e gusto di imparare quello che serve a fare meglio nell'esercizio del ruolo di imprenditore o di manager. La sfida più grande nel processo di crescita professionale, in ogni stato e in ogni ambito di vita, è quella di uscire dal proprio ego e di diventare spiritualmente sempre più liberi e intellettualmente sempre meglio equipaggiati per ascoltare, vedere, capire e fare il bene dell'impresa e delle persone. È una sfida che richiede di dare adeguato spazio alla riflessione sul perché e sul come dell'agire, oltre che su che cosa. Non si finisce mai infatti di imparare ad essere un buon imprenditore come pure un buon padre e un buon cittadino. Alto respiro di sollievo e passo al punto successivo che è l'approfondimento sul perché. Vi invito che andiamo a parlare sul perché, andiamo a vedere, scaviamoli, riprendendo il discorso iniziale che ho fatto sul perché. Rivelatrice dello spirito di impresa che anima imprenditori e management e ulteriore sviluppo del discorso sul perché del fare impresa che avete ascoltato prima è la concezione che imprenditori e management hanno del sistema degli obiettivi aziendali. Questo è un punto nodale. Due sono i modi di concepire come sistema unitario molteplici obiettivi, economico-finanziari, competitivi, sociali, ambientali, con cui qualsiasi impresa si confronta. O meglio, sono tantissimi modi, ma si possono ricondurre a due modelli, fondamentalmente. Un modello è quello di pensarli come una piramide, al cui vertice sta l'obiettivo considerato di primaria importanza, solitamente al profitto, ed assumere quindi come fine o principio guida dell'azione manageriale, rispetto al quale ogni altro obiettivo è da considerarsi come mezzo per il suo conseguimento. L'altro modo è quello di pensarli come un sistema di obiettivi, tutti ugualmente importanti, legati da relazioni dinamiche di causa-effetto di tipo circolare, in forza delle quali i risultati economico-finanziari, e quindi anche il profitto, sono conseguenza dei risultati competitivi e dei risultati sociali e ambientali e, a loro volta, servono prioritariamente a sostenere gli investimenti necessari per costruire e alimentare la capacità competitiva da un lato e la capacità coesiva dell'impresa dall'altro lato, che sono i due fondamentali asset su cui costruire un successo duraturo. Tratti ad evidenza di due concezioni contrapposte, fra loro inconciliabili, che chiamano l'imprenditore e il management a una precisa scelta di campo, o va da una parte o va dall'altra. Per fare una scelta consapevole occorre tenere presente che la concezione gerarchico-piramidale del sistema degli obiettivi, con la conseguente supremazia e assolutizzazione dell'obiettivo posto in cima alla piramide, è di sua natura incapace di produrre due fondamentali risultati. Primo, quello di sprigionare forza coesiva. secondo, quello di ampliare e allungare l'orizzonte del fare impresa come invece richiesto da una lungimirante gestione imprenditoriale. Devo tagliare o sono bastate nei tempi? Me lo dicono? Abbiamo ancora alcune pagine. Allora, consideriamo il primo punto, quello di ampliare e allungare l'orizzonte del fare impresa. Quello sia il suo obiettivo singolo, che noi prendiamo e mettiamo in cima alla piramide, sia esso il profitto o la quota di mercato o la creazione dei posti di lavoro e via di correndo, è un fine mezzo che in quanto tale di per sé non può dare senso al fare impresa. Il senso dipende da come esso si connette con gli altri obiettivi, contribuendo così alla realizzazione della missione o ragione d'essere dell'impresa. Così ad esempio l'obiettivo del profitto di per sé non può dare senso al lavoro e all'apporto convinto di tutti gli sticcoli. Dipende da come lo si produce e da come lo si impiega. Ossia dipende da come si lega agli altri obiettivi e si inserisce nel dinamismo dell'impresa. Se esso scaturisce da valori e capacità di generare innovazione che alimentano la forza competitiva e coesiva dell'impresa e se è prioritariamente destinato a investimenti che le forze mantengono, esso non può non essere riconosciuto come fondamentale per la prosperità dell'impresa e il benessere di tutti i suoi sticcoli. Ma questo significa vivere all'interno della concezione circolare del sistema degli obiettivi e quindi perseguirlo con lungimiranza. Vi è poi il secondo punto che esso pure non lascia dubbi su quale delle due concezioni del sistema degli obiettivi sia preferibile. La concezione piramidale proprio perché fa dell'obiettivo in cima alla piramide lo scopo del fare impresa e quindi il criterio delle scelte gestionali, sia corrente che strategiche, induce nell'imprenditore e nel management una sorta di paraocchia e di miopia, i quali focalizzando l'attenzione sulle conseguenze immediate delle scelte e su calcoli di convenienza di corto respiro impediscono loro di accorgersi delle conseguenze di medio e lungo termine che sono pregiudizievoli per il successo imprenditoriale e prima o poi mettono a rischio la stessa continuità aziendale. Così se il profitto ad essere al vertice della piramide accade che si possono produrre utili magari consistenti ma che prima o poi si rivenono a essere fasuli perché non scontavano i rischi propri di una gestione intrinsecamente affetta da miopia. Non mi soffermo oltre sui danni prodotti dalla funzione obiettivo del profitto. Mi prima invece anche qui sottolineare la differenza radicale esistente tra l'obiettivo di profitto di breve periodo e l'obiettivo di profitto di lungo periodo, collocantisi all'interno rispettivamente della concezione piramidale di quella circolare del finalismo dell'impresa. Il primo è sinonimo di miopia manageriale, il secondo profitto di lungo periodo è sinonimo di lungiberanza imprenditoriale. Il segreto delle imprese incamminate con continuità su un sentiero di successo sta proprio nella loro capacità di inanellare nel voce del tempo gli obiettivi economico-finanziari competitivi, sociali e ambientali e di armonizzarli, vuoi bilanciandoli, vuoi coniugandoli sinergicamente in vista dello sviluppo duraturo dell'impresa. Nonostante l'amplissima evidenza empirica e contributi teorici che depongono nettamente a favore della concezione circolare del sistema degli obiettivi, nella realtà economica sono tuttora diffuse le concezioni piramidali, in particolare quelle che pongono in cima alla piramide l'obiettivo del profitto o quello dell'accrescimento del valore delle azioni. Analogamente all'obiettivo del profitto, l'obiettivo dello share hold of value identificato con il prezzo delle azioni può essere perseguito in modo miope come short term value, pregiudizievole per le sorti dell'impresa, oppure in modo logimirante, ossia come long term value. Delle due concezioni, sinora è prevalsa la prima, anche e forse soprattutto per effetto dei meccanismi di incentivazione del management basati sulle stock options. Infatti l'applicazione della teoria della massimizzazione del valore azionario, combinata con la teoria dell'agenzia, ovvero dell'allinamento degli interessi del management con quello degli azionisti, ha avuto come conseguenza di contribuire a generare a livello mondiale una nutrita schiera di manager che nella gestione di tante società hanno in testa le loro stock options. Questo è quello che si constata. La buona notizia però è che dei danni derivanti dalle funzioni obiettivo della massimizzazione del profitto o del valore azionario sembra esservi crescente consapevolezza. Significativo riguardo è lo statement che è stato emesso recentemente a riguardo dalla business round table, un organismo che riunisce le maggiori corporazioni statunitensi e che dal 1978 periodicamente emette dei principi di corporate governance. Nell'agosto scorso questi signori hanno emesso uno statement in cui, ripudiando il principio della shareholder primacy, hanno sposato il concetto che io chiamo concezione circolare del sistema degli obiettivi e che si può riassumere nell'obiettivo di una ricerca di shareholder value ma di lungo termine, sul lungo termine. Taglio qui sulla critica che l'economy sta fatto a questo statement, molto importante perché se l'economy ha dedicato uno cover story subito dopo vuol dire che la cosa era abbastanza importante. Invece, ultimo respiro di sollievo e sarà brevissimo sull'ultimo punto in cui mi avventuro in un terreno che non è proprio il mio. E cioè lo scopo dell'impresa secondo il diritto delle società. La domanda che mi sono posta è questa. Andiamo un po' a vedere che cosa dice il codice civile in fatto di scopo dell'impresa. Allora, per cominciare ho constatato che nel codice civile non sta scritto da nessuna parte che l'impresa deve essere gestita per massimizzare il profitto di breve periodo. Non sta scritto. Sta scritto invece all'articolo 2380 bis primo comma che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. E quindi gli amministratori devono dedicarsi a realizzare la missione produttiva costituente alla ragione ad essere dell'impresa. E ciò devono fare, continua l'articolo 2380 bis primo comma nella nuova formulazione entrata in vigore il 16 marzo di quest'anno, ciò devono fare nel rispetto della disposizione di cui è l'articolo 2086 secondo comma, che è stato così modificato ed è entrato in vigore esso pure il 16 marzo di quest'anno. Cosa dice il secondo comma? Questo pone in capo gli amministratori, all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva e quindi a tutti gli amministratori di società perché viene poi rinviato in tutti gli articoli che riguardano le SRL, le social operazioni eccetera, si rinvia a questo articolo. E quindi pone in capo agli amministratori di società il dovere di istituire un assetto organizzativo e amministrativo di controllo adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rivelazione tempestiva della crisi dell'impresa. Vi risparmio la lettura perché vi è già stato proiettato qui alla lavagna luminosa. Invece mettiamoci di fronte a questa domanda. Qual è la razio del dovere di istituire un assetto organizzativo e amministrativo di controllo adeguato? Dovere già presente nel nostro ordinamento a seguito della riforma del 2003, come è stato ricordato prima dall'avvocato Morandi. La razio non può che essere quella di promuovere una buona gestione dell'impresa, che assicuri quantomeno la continuità aziendale. I concetti di buona gestione e di continuità aziendale, pertanto, non possono non entrare nella definizione dello scopo o funzione obiettivo che il manager persegue per dare attuazione all'oggetto sociale. E vi entrano, come? Vi entrano, inducendo nel comportamento di amministratore e manager una long view che fa giustizia di tutte le funzioni obiettivo miopi e si traduce in atti di gestione responsabili consapevoli delle conseguenze che essi sono suscettibili di avere sui risultati aziendali nel breve, nel medio o nel lungo termine. Magari qualche collega giurita avrebbe qualche cosa da dire sul fatto che io vengo a considerare come illecite, diciamo così, quelle funzioni obiettivo, ma a me parebbe di poterlo dire. Una gestione responsabile non porta certo a sottovalutare gli interessi degli azionisti, ma non può essere orientata soltanto dalla loro predominante considerazione. Molto interessante mi sembra riguardo il dettato dell'articolo 2497, come 1, che pone alla base dell'attività di direzione e coordinamento di società, e quindi attività che si rivolge nella capogruppo, pone che cosa? I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Con ciò lasciando intendere che l'impresa è soggetto distinto dalla società e che la gestione della società, sotto la cui governa sassetto giuridico e racchiusa l'impresa, che della società è il prezioso contenuto, devono entrambe svolgersi correttamente. Forse l'equivoco in merito allo scopo di profitto attribuito alle imprese, comunemente definite come enti con scopo di profitto, in contraposizione agli enti non profit, nasce proprio dalla mancata distinzione tra gestione societaria e gestione imprenditoriale. Distinzione invece che fa quell'articolo del codice che ho prima citato. Nasce l'equivoco, dicevo, da questa mancata distinzione e dall'avere trasferito impropriamente all'impresa lo scopo alla base del contratto di società. Scopo che è quello diciamo che due o più persone perseguono per esercitare in comune un'attività comune, un'attività economica allo scopo di dividere negli utili. Questo è quello che dice l'articolo 2247. Però diciamo, così facendo, si è trascurato che l'impresa è un soggetto che trascende l'interesse dei soli soci ed è un bene che gli amministratori sono tenuti a salvagordare e a sviluppare l'interesse di tutti i soggetti a vari titoli convolti. Gli stessi soci, fondatori della società, ove siano anche amministratori, assumono delle responsabilità che li impegnano a gestire con correttezza o lungimiranza, guardandosi bene dal fare proprio l'obiettivo del profitto di breve periodo. Quanto agli enti non profit poi, essi sono impropriamente definiti non profit, in quanto se essi vogliono prosperare non possono non generare un robusto profitto da investire in un sviluppo proprio. La differenza fondamentale rispetto alle imprese sta nel fatto che fra gli stakeholder delle organizzazioni non profit non vi sono dei soci che dall'investimento nel capitale dell'impresa si aspettano un ritorno economico e che occlude dal ventaglio degli obiettivi aziendali delle organizzazioni non profit l'obiettivo di distribuire gli utili. Bene, sono arrivato alla fine e qui lasciatemi concludere con un duplice auspicio che mi verrebbe spontaneo di fare dopo questa lunga carrelata. Il primo è che le imprese gestite bene siano riconosciute, circondate da stima, gratitudine, affetto e siano sostenute e facilitate nei loro progetti di sviluppo. Quando dico che siano riconosciute è importante che siano conosciute anche dei cittadini, è importante che si diano, fin dalle scuole medie superiori dove si insegna economia aziendale e strategia e gestione aziendale, si insegni che cosa significa gestire un'impresa e che cosa fa la differenza nel gestire le imprese, cosa fa la differenza nel gestire le banche, cosa fa la differenza nel gestire le organizzazioni non profit. Per questo come istituto per i valori di impresa, da quale io mi sto dedicando abbastanza dopo che sono andati in pensione, uno dei campi di impegno sui quali noi ci stiamo cimentando a fondo è proprio quello della formazione dei docenti che operano negli istituti tecnici superiori e che insegnano economia aziendale, gestione eccetera. In ciò facilitati dal fatto che l'80% della quota di mercato dei libri di testo è detenuta da una casa editrice con la quale abbiamo intavolato un rapporto di collaborazione. Lei è entusiasta di questa impostazione che io vi ho illustrato della concezione di imprese di cui siamo portatori. Poi continuiamo con il nostro impegno a diffondere casi, interviste imprenditori e altri materiali di dati gratuitamente nei corsi universitari, delle facoltà di economia e nei politecni dove si insegna gestione di imprese. Secondo auspicio. Secondo auspicio è che la schiera delle imprese ben gestite diventi sempre più numerosa. Grazie all'operare di tutti coloro che vedono nel diffondersi dei valori di una imprenditoria responsabile e aperta all'innovazione, una via fondamentale di contrasto ai mali che affliggono questa nostra epoca e di promozione dello sviluppo del nostro paese, dell'Europa e di tutto il mondo. Ecco, questo è un punto fondamentale perché anche la crisi, diciamo, che è stata inaugurata con la crisi del subprime nel luglio del 2007 ha portato un'incredibile divaricazione nel mondo delle imprese, una polarizzazione delle imprese. Ci sono imprese che sono uscite dal mercato e quelle che sono rimaste sono quelle che sono impegnate molto a investire sull'estero, che hanno livelli di debitamento che sono assolutamente ragionevoli e dall'altro lato ci sono imprese, molte delle quali vivacchiano e così via. Chi sta mandando avanti imprese? Sono le imprese che vanno bene, insomma, no? E che sono un bel numero di imprese, quelle che vengono definite come imprese del quarto settore o imprese del quarto capitalismo. Non ricordo più come le chiama il nostro collega della Bocconi, storico-economico, che si è occupato di queste cose. Comunque, diciamo, sono un buon numero e stanno dando un contributo formidabile alla tenuta del nostro paese. Quando vengono presentate dall'amico Fortis le classifiche che vedono l'Italia, che prima, seconda, terza e poi prima ancora in questo o quel settore, eccetera, è per merito di queste imprese. Però, se non infoltiamo, se non diventa più numeroso questo gruppo di imprese, non ce la facciamo a superare la crisi in cui siamo. Vi ringrazio della grande pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi.